Ok, qui c'è davvero da essere cauti, perché potremmo causare un incidente diplomatico di qualche tipo, e onestamente, tra tutti i cavoli che abbiamo in questo momento, l'incidente diplomatico, vi prego, no. E quindi dovremmo rilevare un qualche tipo, oddio, di minerale, sì, no, non volevo dire di minerali, se è in realtà, volevo dire di Roekar, a quanto pare, non so se mi sto direggendo in una direzione giusta o meno, ma... Immagino che lo scopriremo Ok, e ce ne sono... Ce ne sono un tot Cos'è questa? Ah, è una mod che ho messo la pistola Ah, è carino però, è carino però Ora, tu sei un cecchino, quindi, mi spiace, oddio che laggata Mi spiace ma devi morire anche soltanto per il fatto che tu sei un cecchino, se vuoi rubare il lavoro a me Sapete che era un tot che non c'ho... trova... non troviamo dei Roekar Morto, male Tu no? Ma ci stai per morire male Qualcuno mi ha sparato... c'è un otto cecchino da qualche parte nascosto? Io vedo dei Rictum che si stanno un attimo imbizzarrendo Non siamo soltanto! Non siamo soltanto nel space Ti fermi, ragazzo Io è un po' che non sparo Mi devo un attimo... Chi è che mi sta? Tu? Questo Rishon non posso giustificarlo in alcun modo E mi hanno fatto molto male, in realtà Gli scudi poi ci mettono un'infinità Forse è il caso che mi addessi un attimo a sparare Siamo soltanto E ancora abbiamo il segno Bradley Certo Vediamo cosa stavano proteggendo Questo mi preoccupa Roekar non sono pirati Vero Forse non sono effettivamente roekar Comunque sì, devo assolutamente fare ammenda per la mia mira È stata pessima A volte succede Ci sono giornate sì e giornate no Ora iniziamo a trovare Dead Eye 6 È fantastico Ci servono le braccia nei Dead Eye 6 In tutta onestà Non siamo riusciti a produrle quelle Qui siamo ancora con il numero 5 Questi dovremmo iniziare a smanterlarli proprio Ho fatto un bel po' di vendite dietro le quinte Quindi adesso non dovremmo avere più quel milione di oggetti Interfaccia audiofaro roekar N'avete in arrivo Axula al comando Ok Il pioniere è presente in attesa di distruzioni Ok Terminale immagino che sia Quel che dobbiamo vedere Ma Lei mi doveva stare buono Lei mi doveva davvero stare buono Adesso Questo signale potrebbe chiamare dropships A una locazione precise C'è una strategia di roekar Il scout potrebbe appena il beacon Nel centro di Protromos Dicendo Axula esattamente dove si stacca Bradley Blacklock con il scout di roekar A un beacon S*** Sì 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 C'è un po' che ci serve decisamente una contro-offensiva E potremmo attirare l'intrappola Tra l'altro sfruttando questo beacon Questo lavoro è half done Dobbiamo assicurare che non arrivi Non è sicuro di ciò che stai chiesto Pathfinder Non possiamo rischiare il nostro primo posto No no Basta ci vado da solo Dall'ora van posto Dall'ora van posto Ma mai Ma mai In che senso Ma attiriamoli nei vecchi Poi devastiamoli Usiamo il suo beacon Vuole un target? Diciamo uno A nostri termini Site 2 è ancora potuto E quindi gli stiamo per fare molto male Questo mi piace Vedi questo mi piace Assai Allora Quindi dobbiamo tornare Molto indietro Ma questo non dovrebbe essere Un grande problema Quindi Andiamo E cerchiamo di sparare un po' meglio Magari se mi mettessi In una posizione un attimo Anche più Idonea Scusate il rumore Che ovviamente Si sarà sentito Devo cambiare la disposizione Per riuscire a utilizzare al meglio Il buon mouse Allora Dove siamo? Cosa facciamo? Qui possiamo andare già A piedi? Non mi ricordo già No Col cavolo che possiamo andare a piedi Andiamo con il nomad E scendiamo qui giù Ok Con tutte le difficoltà del caso Ovviamente Perché un po' Perciò il nomad È famoso Per essere una cosa Comodissima Oddio No 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 Oh diavolo Questa cosa è imbarazzante Ce la posso fare Garantisco che ce la posso fare Hai visto? Fantastico In qualche modo ce l'abbiamo fatta Diavolo che fatica C'è Vi giuro che non è sempre così A parte questo E gli esserini che stanno qui Che scuteranno Get ready to fight Il nostro amicone Axul Penso che la Moshe Non sarà veramente felice Mamma mia Bene così Ma in realtà mi sta bene Stare qui su a me Ma che davvero Ma che davvero Sono davvero così stupidi Allora No Bastardo Ok Uno to' lassù Quello dovrebbe essere abbastanza semplice Però non l'ho preso in testa Quindi Aspetta fammi capire Quanta Quanta vita Hanno i signorini Allora Se adesso noi andiamo con molta accuratezza Verso degli headshot Ci sono qui sotto Uh diavolo Quanti sono Aspettate 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 Che abbiamo ancora dei nemici Qui sotto Che non vedo però Ok Ok con calma Con calma Stiamo in una posizione Che per ora è difficile raggiungere Quindi sfruttiamo questo Come il nostro maggior vantaggio Lui è ancora vivo Ma non per molto Qui abbiamo anche una ricarica di proiettili Esatto C'è un cecchiaio Chi è che mi sta sparando? Da dove soprattutto? Lui Lui non è più un problema Ok ok Comunque c'ho un qualche problema con il reload Penso che lo stia glitchando Perché riesco a ricaricare Senza fare l'animazione Ma a volte non me ne rendo conto Quindi rimango fermo In attesa che l'animazione avvenga Il che è un po' triste Qui qualchiunque sia Sta cercando di salire Appunto C'è ancora qualcuno Che sta sempre qua sotto? Dove sta sparando Pipi? Aspetta 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 C'è qualcuno laggiù Eccolo là Preso Questo potrebbe essere il momento Di spostarci Oppure Ce l'ho beccato Quindi ci dobbiamo spostare E tornare qua? Facciamolo subito Ovviamente Subito Chi è? Dov'è il cecchino? Oddio Che bestie sono queste? Aia Oddio Qui ragazzi stiamo facendo Una brutta fine Qui stiamo per fare Una bruttissima fine Ok Allora Dobbiamo Trovare un attimo Una situazione In cui possiamo curarci Il che non è semplicissimo Non vedo Il fatto che ci siano anche dietro Questo è male Ma Questo è perché siamo arrivati qui dal nulla Immagino Ok Ora Con calma Qui c'è una zona Possono automaticamente Essere curato In teoria Ma non mi cura Perché forse sono In mezzo al combattimento Ok Bravo Bradley Allora Stavo dicendo Axul ovviamente Non siamo riusciti a finirlo qui Sarebbe stato tutto Troppo bello Troppo facile Ma Quanto siamo distanti Da Prodomos Un tot Quindi andiamo Velocemente qua Abbiamo rischiato signori Abbiamo rischiato Pesantemente La nostra vita Ci siamo trovati In una situazione Davvero scomoda Proprio a livello Di collocamento Ora Bradley Cosa ci vuoi dire? Fra l'altro Ero passato sulla Tempest Prima E Pibi ci voleva parlare Di nuovamente Ma lo faremo La prossima volta Perché tanto sulla Tempest Abbiamo un bel po' di cose da fare Fra cui vorrei prendermi il tempo Per farmi quella serata Cinema Cinefila Direi che la fiducia è essenziale Come segno di Bah Conciliatorio Ma io non mi fiderò Affatto di tutti Il più delle volte Non possiamo assumere Che nessuno Potrebbe essere un enemigo Non c'è il modo di vivere Non stiamo planando Come è la squadra Un piccolo cello Non posso L'acqua Potrei dire qualcosa Se ti piace La buttiamo sull'orgoglio L'orgoglio però L'eccesso di orgoglio Può creare sempre qualche problema Ma lei è semplicemente Di encomio C'è un bel po' di cose Non ho chiesto o aspettato. Lavoriamo a volte, ma se hanno la scuola di continuare, lo prenderanno. Questo non era un buon giorno, ma era un altro giorno. Tu gli hai dato questo. Tuoi persone, Ryder. Quante missioni in attesa abbiamo? Allora, torniamo dall'inizio. Conosci il tuo amico? Attesa. Qui ci dobbiamo ancora arrivare. Cercare, dobbiamo ancora fare negli altri pianeti. In attesa. A Eladden ci dobbiamo ancora andare. Nella stanza di Spender questo è Nexus. Le Arche, Liam Costa è in attesa, trova dei mondi. E Pibi raggiunge le rovine. Questo adesso è quello che dobbiamo fare, visto che siamo qui. Anzi, visto che siamo qui. Noi puntiamo a 116, mi pare esatto. Tecnologia, 84. Andiamo all'ultimo punto del supporto di squadra. Ristenza ai danni alleato, bonus di rigenerazione. Rigenerazione, dai. Poi, tecnologia offensiva. Questa era più utile per noi. Danni contro scudi, contro corazze. Forse contro corazze nel nostro caso. E i punti sono praticamente finiti. Siamo a 94. Ok. Allora. Confermiamo. Voi ragazzi. Non vi ho sbloccato i punti da 6? No, infatti. Quindi non posso fare assolutamente nulla per nessuno di voi due. Siete bloccati. Ok. A posto. Esci. Mi esca. Mi esca e vado indietro. Ora. Siamo più verso il nostro profondo sud. Ma fortunatamente possiamo muoverci abbastanza rapidamente nella mappa. Spira esotica. Andremo con il buon Nomad. E un po' di sprint, possibilmente. Mi piace di Eos. Potrebbe essere Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Beh, più o meno. E ora vuoi dirmi che stiamo per tirare su un bel ponticione per arrivare qui al centro? Sembra plausibile. Già, perché io lo immaginavo che avremmo dovuto iniziare a saltellare come conigli. Io di cose come conigli ne vorrei fare, ma davvero saltare era l'ultima. Addio. Qui abbiamo rischiato di non farcela, onestamente. Qui, eh, sa, ero sicuro. Il momento in cui ho visto che ci fosse degli scudi o tutto. Questo è il momento in cui ci sarà da combattere. Procediamo con calma, perché secondo me il combattimento era solo l'inizio. Ok. Lui ancora non si è diventato aggressivo. Fantastico. Allora ti vorrei one-shottare, cortesemente. In modo che tu sia ancora meno aggressivo. Qui vedo ancora qualche attività relictum. Ma dove? Forse là dietro? No, si sta spasando in due. Là! Ok. Dov'è l'altro? Là dietro. E io li vedo solo se sono aggressivi? Eccolo là. Se voi non siete esattamente una minaccia. Però in realtà una volta arrivate a distanza corpo a corpo potreste diventare in realtà molto più pericolose. Lì sono dei resti che non prenderemo mai. Ma non è proprio gravissima la cosa. Moduli anticorazze. Quelli potrebbero essere buoni. Let's find the tech. Ehm... Non è proprio così automatico, penso. Ci sarà da fare qualche rebus anche qui. Qualche sudoku. Sì, buono lavoro. Sì, buono lavoro. Ma io ho visto che ci fosse qualche altro relictum qua in giro. E ora non lo vedo più perché... Andavo sotto terra, si è invisibilizzato. Che roba è successo. Ah, ora su Avar, no? Stavo per andarmene velocemente con un viaggio rapido. Fortunatamente non l'ho fatto. E basta. Ah, no. Bel salto. Peccato che tu sei finito. Specialmente per farti dare... Un bel colpo in faccia. Lui era già morto, ok. Ehi, là. Più che altro non so loro che cosa ci riescano a fare. Non sono come pibi. Ora, il prossimo qui è su Avarla. Ma prima di andare su Avarla, allora, a questo punto, direi di tornare sulla Tempest. E ora sì che ci potremo godere un po' di sano riposo. Benissimo, siamo tornati sulla Tempest. E ora, invece, parleremo un po' con tutti di nuovo per vedere se ci siano o meno novità. E qualcuna, siamo già sicuri, ce ne sarà. Messaggio da Axul. No, aspetta, da Jarl? Raider, ho ricevuto un messaggio da Axul. Lo trasferisco nella sala riunioni. Devi vederlo, Jarl. Quindi già lì avremo qualche ovvio passo avanti, ok. Ho trovato quella planta che volevi. Grazie. Gli darò la ricetta un provo quando sono fuori, Giussi. Ho già avuto idee per come si riempirà. E continuo a lavorare su mister... Non mi piace i filmi, qui, per arrivare. Mi piace. Io solo non credo a guardarci il film di qua, magari, così tu potresti essere più tranquillo. Cosa sta succedendo? Nient'altro, a quanto pare. Dobbiamo tornare a cose. Siren's case? Quindi la serata firma adesso è fattibile. Come funziona? No, ok, è proprio finita là. Non c'era più un incarico né niente. Comunque penso che parlando con tutti riusciremo in qualche modo a tirarla fuori. Ho trovato un blocco di stasis dal Solarian Arc. Tecnicamente qualcuno altro ha trovato prima, ma sì. Che meraviglioso! Siamo che non è l'Arc in un stesso, ma ogni signo è meglio di nulla, sicuramente. Poi, se posso aiutare alla search, solo chiedi. Ah, grazie, vedo che ti sei davvero ripreso bene dalla nostra discussione. Il fatto che ormai con Gil vada tutto così bene ti ha reso anche un po' più sorridente, il che è buono. Se ti ricontattassi per caso... Nient'altro. Ok. I let you concentrate. Eccola qua. Eccola qua. Come on, pensi, pensi. Ne ho bisogno di qualcosa. Chi ti parli? Writer, no, no. Non dovresti riuscire a qualcuno come questo. Sono proprio... Parlando con me stesso. Non mi diciamo che non ti fai mai fatto questo. Ti sembra stressato. Non mi chiede. Non sono costruita per questo tipo di stasis. Non mi piace la gente a sapere dove sono. Stai calma, Pippi. Stai buona, tranquilla. Devi rilassare. Stai a stressare me. Mi piace. Mi piace. Sì. Quando mi sentivo così qui a casa, mi chiedo di una città di zero G, o almeno un tank di isolazione. Qualcun posto che si tratta di fuori. Potrei veramente usare questo ora. Se io so, potremmo essere scritto. in l'escape pod. Puoi creare una città di zero G. Ovviamente! Sam, sei un genio! Sì. Ci farà una grande differenza, Rader. Vabbè. Svegli, c'è room per due. ah ah sicura ma te l'ha appena buttata la direi proprio che siamo più che sicuri noi si non dare una capocciata però c'è qualcosa di più che mi rilassare cosa c'è? questo è il spirito vuoi spiegare? non importa se hai qualcosa di più che succede posso essere davvero discreta, è solo divertente due persone che spaventano l'acqua, nessuna capocciata solo se non c'è capocciata io mi sto interessando molto a Cora, più che con Pibi onestamente Pibi in realtà mi interessa tuttora però non so che state prenderemo non vorrei che questo gli faccia pensare che non sarò interessato in futuro a un legame più serio con lei probabilmente è così, io lo penserei in realtà però è anche l'inizio, perché voglio subito partire con un legame? andiamo, tranquilli, per ora senza legami vedremo che succederà potremo morire oggi, potremo morire domani per ora divertiamoci un po', ce lo meritiamo in fondo questo sarà divertente ok, allora, diciamo più di più oh, tu vuoi dire... ora? qui? tu sai cosa significa più di più, certo? sembra un po' scopo uno svestirsi a Zero-G oh, stiamo flotando proprio nella... uff... chi lo importa uff... 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 perché l'ha dovuto rimarcare così? e comunque mi avevano detto che sarebbe stato tutto altamente pornografico quasi questo nostro approccio su Massa Effetto Andromeda ma invece mi pare che qui non si sia visto moltissimo forse si sia vagamente intuito dall'audio, ma... al massimo avremmo... bloccato la crescita a poc già però è stato rilassante questo rientro sulla Tempest Iscriviti al nostro canale